Sono umano in situazioni, o in momenti fra di noi, i distancchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te, vedi come diventa importante rimanere fuori, rimanere qua, con le braccia verso il cielo, ed il cuore un po' più su, non ci sono solo io, e non ci sei soltanto tu. Quanta gente ho incontrato io, quante storie e quante compavie, ma la voglio di più, una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu, vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se lo so il sentimento che hai, sono un canto leggero, sto pensando a parole da Dio, che dà un dispiacere, ecco la bellezza della vita, che cos'è? Ma un giorno passarono di lì, due occhi di fanciulla, due occhi che avevano rubato al cielo, un po' della sua vermice, e senti tremare la sua radina. Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano, viaggiare la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, e stare amici di tutti. Ed è sempre più preoccupante, evidentemente preoccupante, ma un'altra te, non credo...